Vogliamo ricordare anche per questo fine anno alcune semplici regole per quanto riguarda l'impiego dei fuochi pilotecnici. Si dividono in quattro categorie, F1, F2, F3 e F4, in base alla potenzialità e agli effetti. Tutti gli artifici devono avere la marcatura CE, non devono essere acquistati da ambulanti non autorizzati, perché non si conosce la filiera del prodotto. Acquistare sempre l'artificio nella sua confezione originale, che deve riportare in lingua italiana le istruzioni per l'uso, dove è indicato anche se può essere impiegato in luoghi aperti o al chiuso, nonché le distanze di sicurezza. Non utilizzare mai gli artifici contro persone, animali o altre abitazioni. Non tentare di riaccendere gli artifici che non funzionano e soprattutto nei giorni dopo il capodanno, se si trova per terra qualche artificio illegale, inesploso, non bisogna assolutamente toccarlo, ma telefonare al 112. Grazie. 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 Grazie.